Rinovato per altri 4 anni il comodato d'uso gratuito di un mezzo attrezzato anche per il trasporto di carrozzine a favore della comunità di Villa Verla che grazie ad una vasta rete di volontari in turnazione continua potrà così continuare a supportare le persone più fragili e bisognose. È stato un piccolo ma significativo momento pubblico nella piazza antistante del municipio a suggerire il proseguimento di questa partnership virtuosa che consente tra le altre cose il trasporto di persone in difficoltà che necessità sanitarie, posta degenze e visite mediche oltre che la consegna dei pasti a domicilio a favore degli anziani che ne facciano richiesta. Sono molto orgoglioso di questo servizio nell'ambito del progetto Solidarietà in Movimento ha spiegato il sindaco Enrico De Peron a margine della cerimonia perché questo significa davvero esserci al di là delle parole. Ringrazio il volontariato che dà vita a tutto questo e che tramite la frequentazione quotidiana delle case di chi versa in situazioni di difficoltà effettua contestualmente un prestigioso monitoraggio utile a valutare con una certa tempestività eventuali interventi ulteriori. Una rete sociale dove nessuno resta indietro in una realtà dove il controllo e la vicinanza a persone che spesso non hanno il sostegno di una cerchia familiare diventa ancora più determinante al fine di scongiurare e prevenire quegli episodi di solitudine e di emarginazione che spesso sfociano in notizie tragiche, una comunità dove l'anello debole è ora più saldo.